Il Consiglio regionale di ieri ha impresso una retromarscia netta sulla realizzazione del centro per l'autismo a Pesaro nella sede dell'azienda sanitaria territoriale fra via Vatielli e via Alfano. A comunicarlo è stato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini rispondendo alla quarta interrogazione sul tema posta dal consigliere Andrea Biancani negli ultimi due anni e mezzo. Biancani con amarezza così visti materializzarsi, i dubbi già avanzati in tempi non sospetti circa la compatibilità della struttura di Villa San Martino con il progetto di realizzazione negli stessi locali di una centrale operativa territoriale, la cosiddetta COT che la regione ha previsto nel piano di riforma sanitaria. Nell'ultimo consiglio Saltamartini ha valutato come incompatibile quella destinazione con una piena funzionalità del nascente centro per l'autismo. Si cerca dunque un'altra sede verso la quale ci sono 400 mila euro già stanziati ma è un dietrofront che arriva dopo anni in cui si è lavorato solo nell'ottica della destinazione di via Vatielli. Un percorso delineato al punto che l'azienda sanitaria territoriale aveva richiesto una variante urbanistica al comune di Pesaro approvata poi dallo stesso consiglio comunale nel mese di marzo. Ora la regione sta effettuando sopralluoghi per una nuova destinazione che dia autonomia e piena funzionalità al centro per l'autismo.